Cosenza, rieccomi in paese civile, me ne accorgo subito, chiedo l'albergo dei Lionetti, un giovinotto si profferisce e mi conduce francamente, là domando la mia posta e i miei telegrammi, ma non c'è nulla, mi hanno condotto, e a bella posta si intende, in un altro sito. Cosenza, come tutte le città calabresi, offre ben poco di interessante, nella mia fermata di un'ora facevo però in tempo a notare questo, la pavimentazione è quasi dappertutto orribile, il bicicletto non vi può procedere che lentissimo, macchine ve ne saranno ma non ne ho viste, certo non sono in quantità ingombrante, pure la circolazione è totalmente proibita. Ecco, a vedere questi misoneismi generali in tutta Italia, mi viene in mente un dilemma, o i ciclisti sono imbecilli e non li fanno consiglieri comunali, altrimenti non sarebbero approvati certi regolamenti, oppure questi regolamenti provano che si fanno consiglieri di preferenza molti, basta, lasciamola lì.